Eddie Guerrero! Ancora lui! C'è! Comincia la sua serie di suplex! C'è! Lo vuole sfinire! Questo chiede due macioni? Dovrebbe essere Doug Bashan, se infatti è Doug! Lo riconosci alla scella? No, c'hai i capelli neri! Vergogna! Eddie? Eddie? Vuole il pubblico Eddie? Vuole il pubblico Eddie? Si prepara forse la Frogs Place, ma Shanika gli si avvicina minacciosamente! Attenzione! Ancora scambio! Guarda che si cambiano i due Bashan! C'è ancora la scorrettezza, questa volta Shanika piglia una pizza da Eddie Guerrero! Si sono cambiati i due Bashan e non è più Doug! E questa volta l'ha capito, attenzione perché Eddie l'ha capito! Scorretto tu, scorretto anch'io! Eh lo frusta! Lo frusta! E' frusta anche l'arbitro! Anche l'arbitro, attenzione! E' un mano la frusta! Grande Eddie! Astuzia! Grande! Allora ripetiamo! Ha fregato la frusta a Shanika! Ha colpito! Aspetta, aspetta! Roll up! Uno, due, tre! Grande! Eddie! Eddie Guerrero! Guardate il pubblico! L'arrassa! L'arrassa! Quando sei da solo vinci! Quando sei con Chavo hai dei grossi problemi!